Con grandissimo piacere che sono qui con voi. Sono qui con tanti sindaci che rappresentano l'identità italiana. I Comuni sono l'ente più vicino al cittadino, ma soprattutto nella nostra tradizione, nella nostra storia, i Comuni rappresentano l'Italia nel suo complesso. E allora essere qua con voi, essere qua a parlare di dati concreti, di dati concepiti, costruiti per l'interesse dei cittadini che voi rappresentate, è un grandissimo piacere, un grandissimo onore. Ed è, partendo da questi dati, soprattutto dai dati che riguardano uno dei temi più sensibili, il tema degli asini Lido, delle scuole d'infanzia, che stanno particolarmente a cuore ai nostri cittadini. Toccano da vicino la famiglia, toccano da vicino il ruolo della donna nella nostra società, toccano da vicino il tema della natalità. Quindi guardate quanti temi importanti. Bene, partendo da qua, e partendo dunque da una collaborazione straordinaria che c'è stata fra noi e voi, fra il Governo, fra il mio Ministero e i Comuni, e Lanci in particolare, qui ringrazio anche il Presidente De Caro per la continua collaborazione, il continuo dialogo. Beh, un dato è già stato ieri comunicato, ed è un dato molto importante, un dato inatteso, lo diciamo, me lo comunicava anche poco fa il Presidente De Caro, ci aspettavamo di arrivare a un 70-75%, invece siamo al 91% di aggiudicazioni. E allora è evidente che questo è un successo che abbiamo maturato insieme, che abbiamo costruito insieme. E questa è la cosa più bella della politica, no? Operare insieme per i cittadini, a prescindere dalle divisioni di appartenenza, a prescindere dai colori che ci caratterizzano tutti. Operare insieme per i nostri cittadini. Allora, io vorrei citare qualche dato in più. Questo risultato è sorprendente se noi andiamo soltanto a considerare quelli che sono i tempi medi di aggiudicazione, delle procedure di progettazione e di aggiudicazione dei lavori di un appalto pubblico. Sono andato a farmi studiare dai miei uffici, a ricostruire dai miei uffici quelli che sono i tempi medi, quelli che erano i tempi medi. Pensate che erano di tre anni per opere inferiori ad un milione di euro, di quattro anni per interventi da un milione a cinque milioni di euro. I tempi medi invece registrati per queste procedure di progettazione e di aggiudicazione sono stati di sette, nove mesi. Il che testimonia veramente un cambio di passo straordinario. Un cambio di passo che non sarebbe mai stato possibile senza quelle nuove norme che noi abbiamo fortemente voluto e discusso con i vostri rappresentanti. Abbiamo inserito nel decreto semplificazione di febbraio, poi li elencherò perché è giusto che siano conosciuti. E ringrazio ancora una volta il Presidente De Caro che disse il 16 maggio che sono convinto che ce la faremo anche grazie ad una normativa sull'edilizia scolastica molto innovativa che potrebbe essere utilizzata anche per altri progetti PNRR. Queste dichiarazioni il Presidente ha avuto la correttezza e l'onestà di ripeterle più volte e ha ancora una volta la testimonianza di questa bella collaborazione. E allora quali sono stati questi interventi? Innanzitutto questa collaborazione costante, l'organizzazione di continui webinar, la condivisione di facche e di supporto ai comuni, ma soprattutto le procedure di semplificazione. Sono state semplificate le procedure per l'ottenimento di pareri e per l'espletamento delle procedure di gara, i poteri commissariali in capo a comuni e province, il cosiddetto modello Genova, l'avvalimento e il supporto tecnico delle strutture dell'amministrazione centrale, delle strutture dell'amministrazione periferica o di società controllate laddove i comuni non avessero idonee strutture per poter procedere. Due accordi quadro con Invitaglia per sostituirsi ai comuni nell'attività di centralizzazione delle committenze. Un tavolo di coordinamento con le prefetture territoriali per supportare i comuni anche nelle azioni di monitoraggio. Il supporto delle ragionerie territoriali dello Stato nel monitoraggio degli interventi. Un servizio di helpdesk e di assistenza continua e di confronto con gli enti locali. La collaborazione con Consip S.p.a. per la definizione di schemi tipo di bandi dicapitolati per un più rapido svolgimento delle procedure di gara. Il supporto di una task force sull'edilizia scolastica che ha lavorato sui territori e ha accompagnato i comuni nel raggiungimento degli obiettivi. Dobbiamo anche dire che c'è però anche un problema. Per quanto riguarda il target finale al 2025 abbiamo denunciato insieme ancora una volta l'aumento dei costi, l'incremento dei prezzi superiori al 50% per le principali lavorazioni di edilizia scolastica. Il tale incremento dei costi in parte è stato già coperto, grazie al fondo delle opere indifferibili per i comuni che ne hanno fatto richiesta, con un aumento del finanziamento inizialmente assegnato. E c'è anche un altro dato che invece è estremamente positivo e che voglio qui comunicarvi. Pensate che secondo gli obiettivi di Barcellona, gli obiettivi UE di Barcellona, europei fissati a Barcellona, per quanto riguarda questo tema, questo tema degli asili nido e delle scuole di infanzia, noi avremmo dovuto raggiungere il 33% della copertura. Pensate che basterebbe incrementare i posti già attualmente disponibili di 52.487 unità per raggiungere gli obiettivi fissati da Lisbona. Un obiettivo assolutamente alla portata. Ma mi piace in questa sede ricordare anche gli altri interventi. La messa in sicurezza, per esempio, degli edifici scolastici. E abbiamo a dicembre incrementato lo stanziamento PNRR, lo abbiamo incrementato, di ulteriori 953 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza e di 255 milioni per la messa in sicurezza delle palestre scolastiche attraverso una importante azione. Ancora una volta ricordo di essere andato a visitare una serie di istituti a Torino e di aver incontrato il sindaco che mi disse che grazie a questi stanziamenti ulteriori di fondi reperiti all'interno del bilancio del Ministero noi potremo mettere in sicurezza un numero significativo di scuole in più. E anche questa è stata una testimonianza di quel dialogo, di quella intesa bipartisan che a me piace particolarmente ricordare. Le mense scolastiche. Abbiamo firmato lo scorso 30 giugno un decreto aggiuntivo di ulteriori 34 milioni di euro per finanziare ulteriori mense scolastiche. Le palestre, oltre allo stanziamento iniziale, abbiamo aggiunto a dicembre ulteriori 255 milioni per la messa in sicurezza di palestre scolastiche. Come ricordavo prima, le scuole nuove, un'importante azione sull'efficientamento energetico e nuovi ambienti di apprendimento per la didattica e contro la dispersione scolastica. Abbiamo concluso il concorso di progettazione e sono in corso di liquidazione le somme. E qui vorrei sottolineare un punto che mi preme molto. Vedete, io credo che sia bello che quando si realizza una scuola nuova, quando la si riqualifica, si utilizzino anche certi criteri, certi criteri di bellezza, che possano indurre chi entra in quella scuola, l'insegnante, il dirigente scolastico, lo studente, a trovarsi bene, ad entrarvi con serenità, non soltanto in sicurezza. Entrare in una scuola bella che sia curata nei colori, nelle dimensioni, nell'acustica, nella struttura complessiva, credo che sia qualcosa di molto importante per chi lavora e per chi studia. Avevo fatto, quando ero assessore provinciale, tanti anni fa, provincia di Milano, avevo fatto fare uno studio, la scuola intelligente, ecco, una scuola che favorisca la concentrazione, che favorisca proprio la bellezza dello stare insieme, dell'essere all'interno di una comunità. E anche questo credo che sarebbe importante, un sistema, un modello che caratterizzi un po' le scuole in Italia. Poi è stato sollevato il tema dei pagamenti, dei pagamenti PNRR. Anche qua voglio citare dei dati. Pensate che per gli investimenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito le previsioni di spesa fra gennaio e dicembre 2023 sono di 2 miliardi e 800 milioni. La somma erogata tra gennaio e giugno è pari a 1 miliardo 559 milioni di euro, comprendendo sia i progetti in essere sia i progetti nuovi. E pertanto pienamente in linea con le tempistiche del piano. Quindi anche qui bisognerebbe sempre ricordare, quando si fanno valutazioni intermedie, che occorre guardare il complesso degli interventi e aspettare i tempi giusti. Abbiamo deciso di attivare una piattaforma per la trasparenza, una piattaforma che sia una sorta di contatore, per cui in tempo reale si possa vedere, rendere pubblici i dati di avanzamento dei pagamenti. Ma, e qui faccio un ulteriore annuncio, è mia intenzione istituire uno sportello che consenta un dialogo, un dialogo costante con gli enti locali, un dialogo che vada oltre il tema del PNRR, una sorta di ministero aperto, ogni 15 giorni un confronto fra la nostra struttura e le vostre istituzioni rappresentative, o più in generale anche i sindaci, in modo da poter essere in costante supporto della vostra azione di governo sul territorio. Questa è un'iniziativa che voglio costruire insieme con il mio staff, i miei collaboratori, che ringrazio per lo splendido lavoro fatto sin qua. e credo che sia una testimonianza importante di quel dialogo, di quella cooperazione e di quella collaborazione che ci ha consentito, su un tema così delicato e così significativo, quello degli asili nido e delle scuole di infanzia, di raggiungere un obiettivo che mai, 4-5 mesi fa, ci saremmo sognati di raggiungere. Grazie per l'attenzione e grazie e buon lavoro.